Ciao a tutti, vediamo in questo video un semplice incantesimo d'amore senza ingredienti. In questo video voglio insegnarti un semplice incantesimo d'amore che si può svolgere senza ingredienti o con ingredienti diciamo veramente veramente facili da trovare che adesso andremo a vedere. Allora, prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscrivendoti al canale attiva la campanella così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video e se vorrai delle risposte precise mirate alle tue domande puoi abbonarti al canale. Abbonandoti al canale potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. E adesso veniamo a un semplice incantesimo d'amore senza ingredienti, senza ingredienti particolari. Ricordo che gli incantesimi d'amore non violano il liber arbitrio perché si realizzano se cause e condizioni lo permettono ovviamente. Quindi se c'è un karma che può essere favorevole, cioè quindi se questo evento fa parte degli eventi possibili. E l'incantesimo ha la prerogativa di far sì che quell'evento in particolare possa avverarsi, possa avverarsi tranquillamente. E veniamo a come si può realizzare quindi questo incantesimo d'amore senza ingredienti. O comunque gli ingredienti sono minimi, non è che devi comprare candele, fare cose particolari. Ti servono semplicemente tre penne colorate, rossa, blu e nera, o anche altri tre colori, ma l'importante è che siano tre colori distinti. Normalmente rossa, blu e nera va benissimo. E poi ti serve un foglietto di carta, un semplice foglio di carta, in questo modo. Allora, cosa devi fare a questo punto? Prendi la penna, la prima penna, il colore rosso è importante che ci sia, gli altri il blu e nero potrebbero variare, ma il rosso è importante che ci sia. Prendi la penna rossa e scrivi su un lato del foglio, poi ti farò vedere come è fatto, il nome e cognome della persona per sette volte. In questo senso, cioè se si chiama, che ne so, Mario Rossi, tu scrivi Mario Rossi, Mario Rossi, Mario Rossi, Mario Rossi, Mario Rossi, per sette volte. Una volta che hai scritto il nome per sette volte, scrivi in verticale sopra il suo nome, il tuo nome e cognome. Quindi mettiamo che tu ti chiami Anna Bianchi, scrivi Anna Bianchi, Anna Bianchi, Anna Bianchi, Anna Bianchi, Anna Bianchi, per sette volte. A questo punto ci sono i nomi incrociati, dopo ti faccio comunque vedere come viene la cosa. Una volta che tu hai fatto questo, diciamo, devi identificare un obiettivo che vuoi ottenere da questo Mario Rossi, diciamo. Ad esempio, supponiamo che il tuo obiettivo sia che questa persona ti ami follemente. Allora devi prendere il foglio e tutt'attorno, a mo' di cornice, scrivendolo senza mai interrompere, senza mai interrompere, diciamo, utilizzando ovviamente, allora, il nome della persona che ti interessa, lo scrivi con la penna rossa, il tuo nome lo scrivi con la penna nera, quindi sono i due colori contrastanti, e usi la penna blu per scrivere tutto attorno l'obiettivo. Amami follemente, amami follemente, senza mai staccare. Amami follemente, amami follemente, amami follemente, amami follemente, amami follemente, questo è quello che va fatto, poi ti farò vedere, quindi, adesso, prendo già un foglietto dove ho scritto, quindi, come puoi vedere, io ho scritto suo nome, che è il nome e cognome, quindi come ho detto prima, e qua in verticale scrivi sopra l'altro il tuo nome e cognome, quindi il suo nome e cognome, e lo ripeti, lo riporti sette volte, e tutto attorno, a mo' di cornice, parti da un punto, ho scritto, amami follemente, amami follemente, amami follemente, amami follemente, amami follemente, fino a chiudere il cerchio. Quindi questo è il risultato, diciamo, finale di questa cosa. Ora, quello che devi fare è semplicemente metterti rilassato, entrare in uno stato di coscienza apposito, ti rilassi, respiri tranquillamente, inspiri ed espiri, entri in uno stato di consapevolezza profonda, inspiri ed espiri, fino a che sei completamente in uno stato di rilassamento, sentiti completamente rilassata o rilassato, entrare in uno stato di coscienza profonda, uno stato di rilassamento profondo, che ti possa dare una sensazione di benessere, una sensazione di vero benessere, e quando ti senti fortemente rilassato o rilassata, completamente rilassato o rilassata, tutto quello che devi fare è prendere il foglietto così e iniziare a piegarlo recitando, come un mantra, quello che vuoi ottenere, partendo dal suo nome. In questo caso sarebbe Mario Rossi, amami follemente, e chiudi una volta. Ripetendo sempre mentalmente Mario Rossi, amami follemente, Mario Rossi, amami follemente, Chiudi una seconda volta, Mario Rossi, amami follemente, Mario Rossi, amami follemente, Chiudi una terza volta, Mario Rossi, amami follemente, questo lo ripeti sempre, continua e ripetelo come un mantra. Fai le cose con calmo, Mario Rossi, amami follemente, Mario Rossi, amami follemente, Mario Rossi, amami follemente, Piega ancora una volta, Mario Rossi, amami follemente, 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 Piega ancora una volta, Mario Rossi, amami follemente, Mario Rossi, amami follemente, Ecco, arrivati a questo punto, diciamo, si può forse piegare ancora una volta, ma è abbastanza complicato, quindi ci si può fermare a questo punto, ora questo foglietto lo pieghi molto bene lo tieni piegato molto bene e continua a ripetere diciamo la frase Mario Rossi amami follemente, Mario Rossi amami follemente e adesso si tratta di valutare diverse possibilità ora se tu hai la possibilità di andare a casa di questo Mario Rossi se avessi questa possibilità quello che puoi fare è nascondere diciamo così dentro casa sua questo fogliettino volendo puoi anche mettere un goccio di colla finché non si apra e rimanga chiuso puoi metterlo nascosto ad esempio tranquillamente in mezzo a un libro che pensi che non legga se vai a casa sua devi lasciare e sarebbe la cosa migliore devi lasciare questo foglietto diciamo così dentro dentro casa sua se se non non è possibile per qualche motivo diciamo andare a casa sua potresti però diventa ovviamente più difficile metterglielo in macchina eccetera eccetera se però questo diventa complicato perché potrebbe anche trovarlo insomma allora se tu hai la possibilità di lasciarlo da qualche parte dove lui o lei diciamo non lo trova e allora lo lasci lì altrimenti se tu quando interagisci con questa persona che lo vedi eccetera eccetera lo porti tu in tasca o nella borsetta o dove vuoi in modo che sia comunque a contatto anche con questa persona quindi questo è un modo per per farlo diciamo alternativo se non hai un contatto diretto ma ad esempio hai un contatto via chat tieni il foglietto in mano ad esempio quando chatti quando scrivi ecco questo è molto potente perché utilizza l'intenzione utilizza un sacco di pratiche diciamo così della magia esoterica che possono veramente fare dare quel qui di in più per ottenere il risultato fammi sapere qua nei commenti qual è la tua opinione se l'hai provato se funziona insomma se ha funzionato lascia nei commenti qua sotto quello che ne pensi iscriviti al canale seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco e se vuoi ottenere qualcosa di più abbonati al canale potrai ottenere delle risposte precise e mirate alle tue domande ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti